Musica Musica Benvenuti alla mappa del tesoro, salute ricordarci chi siamo, oggi parliamo di pacificare la mente. Ben tornato al nostro ospite il dottor Paolo Rocchetti, medico di base per oltre 30 anni, insegnante e autore di libri. Grazie. Allora, dottor Rocchetti, dicevamo, pacificare la mente è uno dei temi dello star bene, una mente confusa, sicuramente da malessere anche al corpo. È molto difficile quantificare, però buona parte dei disagi che noi viviamo quotidianamente, soprattutto proprio quelli di tutti i giorni, sono legati a una relazione con la nostra mente non chiara. La nostra mente, la capacità di pensare, di ricordare, di collegare le cose, di scegliere, di sapere che cosa si vuole, che cosa non si vuole, è molto più complessa di quanto noi pensiamo e per buona parte è inconscia, nascosta. Jung, grande, diceva in modo molto semplice, occupati della parte ombrosa di te, della parte nascosta, perché se no sarà quella parte che guiderà la tua vita e tu non saprai perché vai da una parte o perché vai dall'altra, perché ti accade questo o perché ti accade quello. Anche dal punto di vista della mente, in questo libro che ho presentato più volte, insomma, e che stiamo seguendo capitolo per capitolo nelle nostre conversazioni, si rende evidente l'elemento simbolico, cioè come le cose sono fatte dice molto di che cosa sono e come la mente viene ad essere, cioè si produce, ci dice molto della nostra vita. Il titolo delle nostre conferenze è stato già dall'inizio, salute e ricordarci chi siamo. Questo non è solo poetico, è esatto, noi nasciamo sapendo chi siamo, ci incarniamo sapendo chi siamo, dimentichiamo la nostra natura, le nostre direzioni e poi gradualmente le ricordiamo. Per quanto riguarda la mente, questo processo è evidentissimo. Simbolo, che ho usato come termine, deriva dal greco simballo e vuol dire ciò che collega, ciò che riunisce, ciò che in un tempo è stato separato. È il contrario del verbo diaballo, che invece significa ciò che separa, ciò che dovrebbe stare unito, ciò che rompe la relazione tra ciò che dovrebbe stare unito. Come vedremo, la mente viene ad essere separandosi dalla sua perfezione originaria e poi con un processo che può durare anche tutta la vita. Io auguro che tutti possano concludere perché si conclude, quando si conclude, soprattutto nella terza età, nell'età libera, abbiamo scoperte recenti, stupefacenti su cosa accade in questo periodo, forse se avremo modo ne parleremo, che si conclude con una riunificazione di tutte le nostre forze. Tornando alle origini, il dottor Rocchetti parla spesso di shock narcisistico. Dobbiamo arrivarci con un pochino di strada per arrivare allo shock narcisistico. Quando il bambino è in utero, dimostra con i fatti, costruendo un corpo perfetto, di avere potere e chiarezza e consapevolezza oltre la nostra immaginazione. Nessun adulto è in grado di far crescere un arto, se per caso lo perde, il bambino fa crescere da una cellula tutto ciò che esiste, non solo, ma come poi riprenderemo nell'ultima conversazione, parlando della nascita, crea anche il mondo in cui vive, crea il contesto in cui vive. La placenta, il liquido omniotico, il sacco vitellino sono DNA del bambino, non della madre. E poi anche sceglie, quando è ora di nascere, è una scelta del bambino, noi lo sappiamo perché sono gli ormoni prodotti dal feto che mettono in moto il parto, è una scelta del bambino anche il momento in cui nascere. Quindi la capacità di scegliere, il sapere che cosa si vuole essere, costruire questo che cosa si vuole essere in modo perfetto, portarlo nella vita, è una capacità innata. Ma il canale del parto è un momento molto complesso. Il bambino esce nella vita e ancora per qualche mese, nonostante il trauma del parto, su questo sorvolo perché lo riprenderò in una successiva conversazione, nonostante questo passaggio, vive ancora se stesso in modo indifferenziato. Indifferenziato vuol dire che per il piccolo appena nato, voi se avete piacere guardateli, questi bambini, vedrete che sono in questo stato. Per il piccolo appena nato, lui e tutto ciò che esiste sono la stessa cosa e viene riconosciuto come la stessa cosa, simbolo, ciò che riunisce. Per il bambino tutto è riunito, tutto è unito, quindi mamma è lui, la parete è lui, il lettino è lui, il gatto è lui, i rumori sono lui e lui semplicemente sperimenta tutto questo. A un certo punto, a seconda del tipo di stimoli che il piccolo vive, a un certo punto accade un evento, che è un evento per alcuni aspetti drammatico e per alcuni aspetti spettacolare, è un evento biologico, non si può evitare questo evento, è legato alla biologia, al fatto di avere un corpo fisico e questo evento si chiama appunto shock, è stato chiamato dagli studiosi shock narcisistico. In un momento, il bambino che prima si percepisce come tutto ciò che esiste, ha la certezza, la sensazione, l'esperienza che mamma e lui non sono la stessa cosa. Questa magia, io sono tutto, da un secondo all'altro, un millisecondo all'altro, cambia completamente in un'altra realtà. Mamma e io non siamo la stessa cosa. Questa esperienza normalmente, ci sono casi fortunati in cui questo non è così drastico, ma normalmente è vissuta come una perdita. Difatti la nostra idea della vita stessa spesso è quella della valle di lacrime, della perdita, di avere perso qualcosa. In quel momento lì non è che il bambino si rende conto che sta anche guadagnando qualcosa, sente che un infinito adesso è qualcosa di separato e sente che ha perso mamma, che ha perso lui. Difatti succedono tre cose che sono un po' la radice della nostra mente poi nascosta. La prima, appunto, questa esperienza, io non sono mamma. La seconda, allora chi sono? Se non sono più tutto, chi sono? La terza esperienza è, devo fare qualcosa per recuperare quello che ho perduto. Devo forzare la vita in qualche modo, io voglio riavere quello che ho perduto. Ribadisco che questo evento, visto poi da fuori, in maniera molto cosciente, è sia drammatico che spettacolare. Però per il bambino potrebbe essere semplicemente drammatico. Le cure, l'affetto, gli abbracci, l'attenzione del mondo circostante, che di solito sono i suoi genitori, possono attutire un po' questo. Allora, alla domanda chi sono, essendo collegata a un evento difficile, normalmente la prima risposta non è positiva. Potrebbe essere, ci sono, sono stati ben identificati alcuni nuclei, alcuni semi fondamentali delle nostre menti inconsce, potrebbe essere, sono colpevole perché ho perso tutto, sono sbagliato, sono solo, sono abbandonato, sono incompleto, mi mancano dei pezzi, mi manca qualcosa, mi manca qualcosa, sono incapace, eccetera. Che cos'è che è importante riconoscere di questo? Che questo, questa interpretazione, questa idea iniziale che noi abbiamo, poi influenzerà tutta la nostra vita. E quindi, quando saremo di fronte a un evento scioccante, a un evento difficile, a dover fare delle scelte importanti, noi saremo fortemente influenzati da questo eco di fondo, che ci porta ad affrontare la vita in un modo incongruo, non utile, e quel modo di affrontare la vita incongruo e non utile, oltretutto, ci è anche incomprensibile. Cioè, diciamo, ma perché devo sentirmi così? Per cui mi presento a un esame sentendomi incapace. Mi presento a un colloquio di lavoro sentendo che mi manca qualcosa e che gli altri sono meglio di me. Oppure che sicuramente verrò eliminato perché non è possibile che possano scegliere me, e così via. Questa è una sorta di menzogna. Non capiamo nemmeno noi perché ci comportiamo in determinati modi, insomma. Qualcosa di cui... Questi modi possono... ...è una consapevolezza che ci manca. Possono essere anche molto limitanti. Si chiama mente reattiva o struttura della mente limitante perché può veramente limitare l'espressione di sé, al punto da non poter trovare l'amore che vuoi, perché tu ti senti il più brutto, ti senti il più inadeguato, e così via. Il problema è che noi non ricordiamo perché noi ci sentiamo in un modo o nell'altro modo. È un eco che arriva alla coscienza. Questo schema si ripete per tutte le fasi della nostra vita. Ha origine con lo shock narcisistico, ma poi continua a ripetersi. Per cui quando vivo una situazione sopraffacente, cioè troppo dolorosa, vi faccio qualche esempio. Il bambino piccolo ha come suo dio papà e mamma. Lui li guarda con un amore infinito. Ho messo una fotografia in una delle conferenze, varie fotografie di bambini, con questo sguardo aperto all'infinito e ai genitori. Eccoli qua. Così loro ci guardano. Sono completamente aperti. Allora fai conto che questo bambino, che ha già qualche anno, incontri un giorno il lato ombroso di papà. Papà è nervoso e stanco, non è un'accusa, è soltanto un fatto. E lui dice papà, 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 facciamo questo, facciamo quello. E papà, ma lasciami stare che sono stanco, stai zitto. Oppure addirittura a qualche bambino capita anche di più di ricevere delle punizioni o altre cose. Per loro questi eventi sono incomprensibili. Loro non capiscono, ma come? È il mio amore, è il mio infinito. Io mi aspetto che arrivi bellezza e nient'altro da lì. Questo non è naturalmente un appunto a papà. Io sono stato papà e sono papà. E ho fatto tutti gli errori di cui sto parlando. È per quello che ne parlo. Perché so che si fanno. Però so anche che il bambino, in quella situazione, lui non comprende. E allora se la mette via e dimentica. La nostra mente nascosta è piena di cose che ci siamo messi da parte perché erano troppo dolorose per affrontarle. Solo che quelle cose rilasciano dentro di noi, nella memoria del nostro corpo, dalla memoria del nostro corpo viene a galla un eco che ci porta appunto poi quando siamo in una situazione complessa a dire non sono capace, sono incompleto e così via. Come possiamo fare per poter risolvere questo? Ci sono naturalmente delle pratiche, delle tecniche, delle terapie, ci sono psicoterapeuti, ci sono psichiatri eccetera che fanno benissimo le loro pratiche. Ma ci sono anche delle situazioni quotidiane su cui riflettere che possono essere invece un'indicazione molto concreta per la vita di tutti i giorni. Allora vediamo come avviene la decadenza di questa abilità. Noi nasciamo con la capacità di creare il mondo. Non è una capacità piccola, è una capacità straordinaria. E poi con lo shock narcisistico ci sembra di essere invece soli, abbandonati, incapaci e così via. Ma noi siamo sempre quell'essere di prima. Siccome questa perdere, questo senso di poter fare tutto è molto doloroso e il sentire questo dolore non ci piace, allora noi cominciamo di solito a trasferirci invece che nel sentire direttamente una cosa, dolore ad esempio, disagio, ma perché? Cominciamo a spostarci nel pensare. Allora cominciamo a darci spiegazioni. È per questo, è per quello, è perché il mondo è così, è perché il mondo è colà e noi cominciamo a costruire una difesa di spiegazioni riguardo a questo. Ma molto spesso non bastano perché noi continuiamo a non stare bene. Vogliamo di più, sentiamo di volere di più. Allora invece che spiegazioni poi passiamo nelle proiezioni, cioè cominciamo a lamentarci che c'è qualcosa che non va, diamo la colpa a qualcuno che è una specie di sport umano, insomma è colpa della società, del posto, dell'ambiente, di mamma, di papà, della mia infanzia, di qualche cosa. E quando questo senso di colpa di qualcuno ancora non è sufficiente per farci sentire un po' meglio, allora cominciamo a dare la colpa a noi e ad andare in un processo autodistruttivo che può portare proprio a perdere l'occasione di questa straordinaria vita, a non viverla questa straordinaria vita, a lamentarci tutto il tempo. Lei usa anche un termine, essere addormentati, quando quindi non si raggiunge una consapevolezza. Purtroppo la maggior parte delle persone invece che vivere nel momento presente, qui, adesso, cosa faccio, cosa dico, cosa creo, chi sono in questo momento, essendo legato a un passato, a avvenimenti che nemmeno più ricorda, vive proprio come se stesse dormendo, come se fosse in un sogno, un sogno del passato o un sogno del futuro. Una conseguenza dell'evento scioccante, dello shock narcisistico, è l'abitudine a forzare o resistere. Forzare vuol dire che io, siccome in questa situazione non sto bene, forzo, cioè cerco di convincere la realtà a essere in un altro modo. Forzo la realtà e mi invento una realtà che non è quella reale, ma forzo le persone, cerco di costringerla a essere in un modo o in un altro modo, forzo i figli, forzo il partner, eccetera. Oppure resisto. Resisto vuol dire che quello che arriva non mi piace, non mi piace che la vita sia così, non mi piace che la vita sia colà. Questo ci porta sempre fuori dal momento presente. Resisto a quello che arriva perché mi sembra che mi riporti nel dolore del passato, o forzo perché voglio creare un mondo futuro che sia esattamente come voglio io, ma il risultato finale è che sono sempre in un sogno dove sono o nel futuro o nel passato e non sono mai qui. Riconquistare la capacità funzionale della propria mente vuol dire, prima di ogni cosa, tornare nel momento presente. Io adesso sono qui, cosa scelgo? Cosa voglio? Cosa desidero? Cosa faccio? E il livello di consapevolezza per fare questo può aumentare negli anni, fino ad arrivare al suo apice, proprio nell'età libera, nella terza età. Magari ne parlo brevemente perché è una cosa che può essere molto consolante per tanti. Noi abbiamo l'impressione che ci viene anche dalla biologia, che ci è stata presentata solo per un pezzo, che dai 18 anni in su più o meno continuiamo a perdere colpi. A 40 ne perdiamo di più, a 50 ancora di più e dopo è una specie di disastro dal quale cercare di difendersi. In realtà il nostro sistema nervoso è fatto in modo tale che veramente perdiamo anche dei neuroni nel corso degli anni e quindi perdiamo un po' di forza mentale, ma nello stesso tempo aumenta proporzionalmente la capacità dei due emisferi cerebrali di cooperare tra di loro, di collaborare tra di loro. Abbiamo due cervelli tagliati a metà da un solco e che vengono tenuti in collegamento dal corpo calloso che è una struttura sottostante che però è molto poco permeabile ai passaggi di informazioni quando si è giovani. Allora il giovane ha bisogno di fare tante esperienze, anche fisiche, contatto, sport, movimento, attività fisica, sessualità, esperienze con il corpo perché il cervello destro dà i comandi al corpo di sinistra per muoversi, quindi se io voglio muovere questa mano è il mio cervello destro che la fa muovere, ma sarà poi il cervello di sinistra che sente cosa faccio con la mano, cioè che il corpo permette a me di capirci dentro qualcosa di più, collega due mondi, il mondo maschile e il mondo femminile, il mondo destro e il mondo sinistro. Invece mano a mano che si diventa un po' più adulti e soprattutto questo arriva al suo apice verso i 75 anni, i due cervelli cominciano a collaborare di più. Allora vale la pena tutta la vita occuparsi di questi temi. Adesso però vorrei, avendo il tempo limitato, dare alcune indicazioni di che cosa vuol dire occuparsi. Esistono tecniche, pratiche per andare a pescare questi contenuti nascosti, questi ecchi che hanno una forma, che sono da qualche parte e che possono venire riportati a coscienza in modo che noi possiamo pacificare, fare pace, capirli e lasciarli andare. Esistono, io le ho praticate per tanti anni, adesso sto mettendo appunto una nuova strategia per questo, ma queste sono cose particolari, diciamo, per appassionati o per chi proprio vuole fare questo tipo di percorso. Ma ci sono delle abitudini quotidiane che invece sono le vere medicine per la mente e che trasformano questi ricordi reattivi in qualcosa invece di funzionante, di funzionale, che ci riportano alla nostra forza originale. La prima è smettere di lamentarsi. Noi sottovalutiamo il potere della lamentazione. È anche ragionevole lamentarsi spesso, però non ha nessuna utilità. Ci sono state fatte perfino delle ricerche neurologiche e si è visto che lamentarsi riduce il numero dei neuroni, accelera il calo del numero dei neuroni. Non solo quelli di chi si lamenta, ma anche di chi ascolta la lamentela. E questo ci rende ragione di un certo fastidio che noi abbiamo. La componente dello sfogarsi e sentirsi poi più liberi non c'è? Non così, non così. Adesso vediamo qual è invece la componente sana. Così è soltanto un modo per mettere le proprie immondizie, quello che io non riesco a capire di me, nel lavandino dell'altro. Se siamo lì con i due lavandini, io lavo i miei piatti e metto tutte le mie sporcize nel piatto dell'altro. Non è saggio, anche perché poi quell'altro farà uguale con me e non ne veniamo più fuori. Smettere di lamentarsi può essere un primo elemento, ma sapendo che la mente reattiva, quindi questi simboli, queste immagini, questi condizionamenti che arrivano da dentro di noi, vengono da molto lontano e sono fortemente legati anche a com'era papà, com'era la mamma, com'era il nonno, com'era la famiglia, come sono state le prime esperienze che hanno creato questi solchi, un secondo elemento fondamentale è conquistare la certezza che la propria vita ha un senso e benedire ogni evento della propria vita, invece che sentire se avessi avuto un'altra famiglia, se avessi avuto un'altra occasione, se non fosse successo questo o quello. Benedico tutto quanto è accaduto, questo mi fa recuperare energia per comprendere quello che è accaduto. Torno al punto di origine dei nostri discorsi, noi scegliamo di nascere e nello scegliere di nascere scegliamo anche la famiglia in cui nasciamo, il contesto e le esperienze che poi faremo. Benedire vuol dire già recuperare una parte della relazione con le esperienze della vita, ringraziare, essere gratti alla vita che ci ha creato proprio quelle esperienze che abbiamo creato noi, ma comunque che abbiamo incontrato proprio quelle esperienze, grazie vita. Perdonare abbiamo fatto qualche danno ad altri, abbiamo ricevuto qualcosa che ci ha fatto soffrire, perdonare è un'abilità straordinaria che è io mi dono e dono alla vita che ogni debito è pagato, che va bene così. Amare le situazioni, quindi recuperare amore per la propria famiglia, per il proprio passato, per le persone della propria vita, anche quelle con cui ci sono stati problemi importanti e poi avere fede nel senso della vita. Queste cinque abilità, benedire le cose così come sono, ringraziare, sentire gratitudine, è un moto del cuore, ne abbiamo parlato quando abbiamo parlato del cuore, c'è bisogno di un lavoro su se stessi perché sorga, non è che si può fare con un moto di volontà. Perdonare, lasciare i debiti, condonare i debiti anche i propri, anche i propri errori, ho detto prima che gli errori come papà io li ho fatti, ho sbagliato con i bambini, li ho trattati male quando non dovevo, eccetera. Perdonare, che lasci tutto questo, sai che ha un senso amare la vita come il posto più bello del mondo e infine avere fede anche quando non capisci che le cose hanno un senso. Queste cinque abilità permettono che qualsiasi siano i simboli, le immagini, i condizionamenti profondi che da dentro di noi continuano ad arrivare alla nostra superficie, alla nostra mente e che condizionano le nostre scelte, cominciano a perdere forza e alla fine riconquistiamo la forza delle origini di quando siamo nati, che siamo stati capaci di creare un mondo e ritorniamo capaci di creare un mondo che è il vero scopo della mente, avere consapevolezza e chiarezza di come fare a creare liberamente la mia vita. Conquistare la propria mente funzionante, la propria mente consapevole è conquistare la libertà di creare in modo esatto, consapevole, forte, efficace la propria vita. Grazie dottor Rocchetti, come sempre è stato molto chiaro esprimere questi concetti non facili, però davvero lei li rende semplici e comprensibili. Nella prossima puntata si parlerà di amore e sessualità, il titolo sarà Amore e sessualità, la danza della vita. A presto, grazie ancora. Grazie a voi. Amore e sessualità Grazie a voi.